Ale, 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 so, gridiamo forza, Rezzi, allora si vincerà. Ale, 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 so, ed il pallone in porta allora arriverà. Quando la squadra gioca, dobbiamo combattere con forza pure noi. Ale, 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 so, senza mai cederla, vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo qui. Beh, Floro è un attaccante che già a 17 anni prometteva tantissimo. Cioè è un giocatore che ha fatto parlare di sé tutta Italia calcistica a un'età tenerissima. Capita a pochi, significa che si nasce con un talento fuori del normale. E' un giocatore che riesce a vincere con una partita solo perché riesce a partire da metà campo, driblare uno o due avversari e mettere la palla in fondo al sacco. Quindi non sono tanti i giocatori che riescono a fare queste cose, anche se fino adesso la fate solo a livello di Serie B. Però ce l'ha nel repertorio, quindi è un giocatore di un talento infinito. Deve assolutamente, considerato le caratteristiche, il talento che ha, deve assolutamente crescere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.